Si affronta come ogni domenica, con impegno, con voglia di lottare, le nostre armi, bene la fase difensiva, cercando di migliorare la fase offensiva, insomma, è una partita normale, è una partita normale, difficile come era difficile quella precedente, insomma, una partita normale si affronta come tutte le partite, con la voglia di lottare, con la voglia che è quella voglia che sta distinguendo il Forlì nella prima parte della stagione, quella fame che si vede la domenica, vediamo sedioli febricizzanti e quindi siamo in difficoltà nel reparto retrato. Probabilmente dovremo far giocare qualche uomo, perché ha sempre giocato da attaccanti, bisogna provarlo il difensore, una nuova alternativa.